Si incontrano imprenditori, start-upper e si sviluppano competenze trasversali per costruire una carriera basata su sostenibilità e innovazione. È un network di manager di ABB e di altre studentesse in ambito STEM. All'inizio ero un po' titubante sull'inviare la mia candidatura perché per me era un periodo piuttosto pieno. Infatti stavo terminando il progetto di tesi in vista della laurea magistrale. La scelta però di candidarmi a questo programma è stata per me fondamentale. Il Sustainable Talent Program infatti mi ha permesso di conoscere una realtà aziendale multinazionale, quella di ABB, e in più mi ha permesso di visitare una delle sue sedi, quella di Bergamo, che poi sarebbe diventato il mio posto di lavoro. Il Sustainable Talent Program mi ha dato l'opportunità di conoscere alcuni dei dipendenti dell'azienda ABB, tra cui la mia mentor. La mia mentor è stata per me una figura fondamentale, infatti mi ha aiutato nelle scelte durante quel periodo. Grazie al suo sostegno, infatti, mi sono anche candidata nella posizione che attualmente ricopro. Lavoro in R&D come progettista meccanico. Sono stata inserita nella squad pilota che lavora seguendo la metodologia Agile. La mia squad ha il compito di gestire e soddisfare le richieste cliente nell'ambito energie rinnovabili. ABB dà la possibilità di fare dei percorsi di job rotation. Il percorso di job rotation che ho fatto io mi ha permesso di andare un mese nel print di Frosinone. A Frosinone ho avuto la possibilità di visitare le linee di produzione, ma anche la qualità, e inoltre di fare delle visite dai fornitori. Vi consiglio di candidarvi al Sustainable Talent Program perché per me è stato veramente fondamentale. Con il Sustainable Talent Program ho capito che le persone in ABB non sono soltanto un numero e che ogni giorno puoi affrontare dei progetti molto stimolanti. I posti sono limitati, affrettati e invia la tua candidatura al Sustainable Talent Program.